Bella a tutti ragazzi e bentornati nella nostra carriera su Football Manager 2016 con il nostro amato Pescara Allora abbiamo preso questa squadra all'inizio serie dalle ultime posizioni perché eravamo un quarto ultimo se non sbaglio E con un rendimento davvero straordinario ci siamo portati al quinto posto in classifica 53 punti a 7 punti dalla capolista Spezia Io vi ringrazio davvero tanto per il supporto che stanno a questa serie, vi ringrazio davvero di cuore perché non me l'aspettavo State amando in tantissimi questo gioco, state imparando ad amarlo, è un gioco che io stra adoro Vi consiglio se non l'avete ancora fatto, se non l'avete ancora acquistato il gioco lo trovate nel link che trovate qui sotto in descrizione Cioè il sito di Instant Gaming, sito sicuro ed affidabile al 100% quindi se non l'avete ancora acquistato passate dal link qui sotto Cosa molto importante prima di cominciare col video, se iniziate già a lasciare un bel mi piace perché è importantissimo continuare a supportare questa carriera con il Pescara Comunque, allora andiamo a guardare il calendario, scusate, abbiamo le partite contro Ternana, Novara e Crotone, forse quella col Bara, adesso vediamo Ok, dopo aver fatto il meeting con lo staff dove ci dicevano che dato che non abbiamo molti soldi di puntare molto sulla nostra primavera Ci facevano notare quali sono i nostri giocatori sia dall'Under 20 sia dall'Under 18 un po' più promettenti degli altri ma li avevo già notati quelli che mi hanno consigliato loro Adesso andiamo a sfidare la Ternana in casa in campionato quindi voliamo immediatamente al match Io ho portato qualche giocatore, ho fatto un po' di cambiamenti, ho portato qualche giocatore dall'Under 18 all'Under 20, qualche giocatore dall'Under 18 in prima squadra anche se non giocheranno Però abbiamo bisogno di puntare sempre di più sui nostri giovanissimi Il problema qual è? Che andiamo a sfidare la Ternana in trasferta con 6 giocatori indisponibili perché sono in nazionale Cioè Calabria, Pezzella, Pons, Mandragora, Verra e Torreira Male Ok, giochiamo con Batch, Crescenzi, Campagnaro, Fornasier, Zampano Poi il centrocampo con Mignanelli, Serasi, Vulevardi, Caprai, Donnarumma e Cocco In panchietti sono i giovanissimi Maier, Pavan, Dipinto che è un centrocampista anche se è un po' stanco e Damiano Marinelli Comincia il match, comincia Pescara-Ternana, speriamo di fare un'ottima gara perché vorrei portarmi a casa la vittoria Cocco, fermato da Coppola Va benissimo però E' espulso quindi Coppola per un fallo normalissimo e danni di Cocco Qui Donnarumma col destro la parata di Mazzoni Caprare la butta dentro, di testa Campagnaro, fuori Zampano corre sulla fascia, dentro per Donnarumma Dentro per Mignanelli La palla appoggiata a Selasi La palla arriva a Cocco, niente, è bloccato Poi Crescenzi, Mignanelli Ancora larga per Crescenzi, uno contro uno Dentro per Caprare, niente da fare Raga ho talmente tanta paura che Bulevardi venga espulso Qui Zampano sulla fascia, la mette dentro per Cocco che non ci arriva Donnarumma in aria Donnarumma, niente da fare Mignanelli, Caprare, sera solo Dentro per Cocco C'è il vantaggio del Pescara 1-0 al 38esimo minuto 14esimo centro In campionato per Andrea Cocco Donnarumma dentro Poi Mignanelli La palla per Caprare Che invece di calciare appoggia dentro Per Cocco che non sbaglia 1-0 siamo in vantaggio Ho tantissima paura per Bulevardi Infatti nel secondo tempo lo faccio uscire Come mi ha scritto un ragazzo in un commento sulla pagina Facebook Che lui ha provato Bulevardi per un po' di stagioni E' uno di quei giocatori che si fa espeller sempre Bravo Belec qui Quindi dobbiamo gestirlo bene Selazi porta palla Salta l'uomo molto bene Selazi Ancora Selazi fino in fondo Appoggia dentro per Zampano Vai il cross La palla dentro per Donnarumma Non so perché l'ha appoggiata ancora dentro Comunque Zampano il cross Cocco Doppietta per il bomber andrà Cocco 15esimo centro in campionato per lui Ed è la doppietta quindi personale Vediamo qui Zampano Fortissima in mezzo E Cocco Anticipa tutti La mette in rete 2 a 0 Al 46esimo minuto 2 contro 1 Adesso 3 contro 1 Cambio di gioco intelligentissimo per Selazi Selazi può andare Selazi La palla larga per Zampano Il cross dentro per Cocco Che non ci arriva Peccato Ancora Zampano 1 contro 1 Il cross di prima Bel cross al volo Qui Selazi La mette giù Cambio di gioco ancora per il solito Zampano Che la stoppa La mette in mezzo Non c'è nessuno Raga Purtroppo si è fatto male dipinto Era anche un po' stanco Quando l'abbiamo fatto entrare Perché aveva giocato già con la primavera Stonchi ammunito Gli altri giocatori entrati sono Damiano Marinelli Un altro primavera E poi Alessandro Pavan Un altro primavera Qui Zampano Ormai è finita la partita La palla per Donna Roma Zampano La palla dentro Cocco Cocco Palla sull'esterno del palo E finisce qua la gara Dall'Adriatico Vinciamo 2-0 Contro la Ternana Raga mi sembra una cosa abbastanza ovvia Gara condizionata Dall'espulsione Inizio gara Però Può capitare Quindi Va bene così 2-0 3 punti importanti E andiamo a scavalcare la Ternana Allora Il Cesena ha battuto lo Spezia Che si trova terzo Quindi noi ci avviciniamo allo Spezia Raga Sono davvero molto contento Perché in un colpo solo Due giocatori hanno fatto l'esordio Che sono Di Pinto E Pavan Davvero ottimo E sono due Talenti Che faremo crescere Nel corso degli anni Raga Si è fatto male Purtroppo Caprari In allenamento Quindi starà fuori dai 5-7 giorni Speriamo di averlo al top Se non per la partita con Novara Ma almeno per la partita successiva Raga Ci sono Un bel po' di giocatori Che vanno in scadenza di contratto Nel nostro Pescara Quindi Vedrò il rinnovare Soltanto Ai giocatori Che mi interessano Magari per un prossimo futuro Dato che molti sono giovani Allora raga Più o meno Ho offerto il rinnovo Ai giocatori giovani Che mi interessavano Ci sarebbe rinnovo Anche di Grillo e Aresti Ma non ho deciso di Provare Rinnovare il contratto Perché Prendono tanto di stipendio Prendono 240.000 a uno 225.000 a l'altro E valgono poco E sono due giocatori Che non hanno molto mercato Quindi Molto probabilmente Non riusciremo mai a venderli Quindi fatemi sapere A voi cosa ne pensate Io per adesso decido Di non rinnovargli Il contratto Aggiornamento Fiducia della dirigenza Le assumenti I dirigenti Sono assolutamente Entusiasti Del mondo In cui stai guidando La squadra Abbiamo una sicurezza Lavoro Quasi intoccabile Ed è davvero Una gran cosa Sono un po' delusi Dal numero di giocatori Giovani Da far giocare Il torale Che è ingaggiato Però Sono di dire Che useremo tanto La primavera L'unico problema È la situazione economica Che vedremo Di migliorare Nei prossimi mesi Allora Noi giochiamo Contro il Novara Nel posticipo Del lunedì Questi qua Sono i risultati Del sabato Il Cagliari Che si trova In quarta posizione Ha battuto La Provercelli 2 a 0 Poi il Cesena Ha perso 2 a 0 Con l'Avellina Questa qua È una notizia Importante Per noi Poi 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 Lo Spezia Che ha pregetto 1 a 1 Buono Altre gare Che a noi Interessano Il Livorno Ha perso 4 a 1 Col Crotone Tanta roba Ok Giochiamo con Belec Crescenzi Campagnaro Fornasier Calabria Torreira Verre Mandragora Gesien La Palula E Cocco Comincia il match Comincia Novara Pescara Speriamo di fare Un'ottima gara Speriamo di vincere Ancora E spero naturalmente Di non averla gufata Verre Dentro per Mandragora Mandragora Porta palla Dentro per la Palula Bella palla Niente da fare Ancora Mandragora Di testa La palla arriva Cocco Cocco Prova a saltare Due avversari Cocco Cocco E Infermabile Andrea Cocco Sedicesima Rete Stagionale Tanta roba Questo giocatore Tanta tanta roba Salta due avversari Tranquillamente Poi decide di Guardare la porta La metterà sul palo Più lontano Dove il portiere Non può arrivare 1 a 0 Al diciannovesimo minuto 1 conto Un momento per Faragò Faragò Col destro La palata di Belec Fondamentale Belec Piano piano Se iniziano a farsi valere Veramente Comincia la ripresa Raga Dopo un primo tempo Giocato abbastanza bene Però soltanto con un gol Di vantaggio Buzzegoli Larga per Garofalo Garofalo Il cross Dentro di testa Attenzione Nicolas Viola L'ex Palermo Trova il gol Del pareggio Donnarumma Dentro la pala Per Bulevardi Bulevardi Ancora per Donnarumma Dai Donnarumma In aria Donnarumma Donnarumma La mette in mezzo Dai Ho sciupato Questo contropiede Da Silvio Piola 1 a 1 Contro il Novara Questo qua per me È un brutto risultato Raga Per me sì Abbiamo calciato in più Degli avversari È tutto Però raga Queste partite vanno vinte Adesso guardiamo la classifica Siamo ancora al quinto posto Due punti dal Cagliari E tre punti dal Cesena Però Ci siamo avvicinati Ai primi posti Nonostante anche il pareggio Ok raga Giochiamo con Belac Pezzella Campagnaro Marinelli Calabria Bulevardi Mandragola Dipinto Caprari Donnarumma Falcinelli Raga Ho portato in panchina Anche due primavera Per questa gara E adesso Vediamo Di Giocare Questa gara Contro il Crotone Occhio il cross Per Budimir C'è il vantaggio Del Crotone Mi sembra giusto Dopo un minuto Passare già in svantaggio In casa Contro il Crotone Crotone comunque Che nella realtà Sta facendo un cambiato Meraviglioso E comunque È una squadra Straordinaria Che ha messo in difficoltà Anche il Milan In Coppa Italia 2-0 2-0 Crotone 2-0 Crotone La rete di capezzi Di testa Non ho parole Raga 3-0 Crotone Budimir Io sto rischiando Trovo Per come Sotto È tutto Offensivo Per provare A farli segnare Nel frattempo Prendiamo anche Il 3-0 Sì Sto giocando con Marinelli E non è il massimo Dato che è un giovanissimo Però 3 gol In 20 minuti Non riesco Proprio a concepirlo Falcinelli Sbaglia Falcinelli recupera Caprari Dai Caprari Su Caprari Cambio di gioco Alla cieca Calabria Dentro per Mandragora Cambio di gioco per Caprari Dai Caprari In aria Niente da fare Dipinto Larga per Pezzella Pezzella Il cross dentro Fuori gioco Larga per Calabria Il cross dentro Per Falcinelli Dai vai prendere quella cazzo di palla E muoviti 3-1 Un inizio davvero Disastroso Raga Disastroso Sarà impossibile Andare a pareggiare questa partita Qui Proprio mi Mi sento responsabile Tantissimo Di questi tre gol presi Caprari La butta in mezzo Campagnaro E c'è il 3-2 Magari Trovare il gol Del pareggio Sarebbe Comunque una buona cosa Caprari Dentro per Cocco Appena entrato Niente da fare La va a prendere Zampano La palla per Mandragora Bulevardi Dentro per Dipinto Dipinto col destro Ci prova Mandragora Zampano Nel cross Non ci arriva nessuno Balazza In calcio d'angolo Dai che vogliamo prenderci Sto pareggio Almeno Calcio d'angolo Batte Caprari La mette dentro Campagnaro Non ci arriva Peccato Zuparecci Va a prendere palla Zuparecci che è entrato Naturalmente al posto Di Marinelli Mandragora Niente da fare Ancora Zuparecci Il tiro Bruttissimo Occhio a Campagnaro Era già munito Sei un coglione Perché è un giocatore Della tua esperienza Farsi buttare fuori All'ultimo Secondo una partita Già persa Sei un idiota Te lo dico io Per me sei un idiota Finisce la gara 3 a 2 Sono quelle partite Che in Serie B Succedono Di solito Tipo La prima classifica Perde contro l'ultima Sono Soprattutto in Serie B Italiana Succedono tante Di queste cose Ci può stare Ma È tutta colpa mia Alla fine Ho rischiato un po' troppo Perché ho fatto giocare Troppi giocatori giovani Pensavo fosse una partita Un po' più semplice Invece alla fine L'ho presa nel Sì Raga Questo mi sarà dato così Purtroppo Una vittoria Un pareggio col Novara E poi infine La sconfitta col Crotone Ne abbiamo perse Veramente poche Di partite Da quando siamo Sulla panchiera del Pescara Abbiamo perso Quella con la Provercelli Quella con Livorno E adesso Quella col Crotone Mi spesso soprattutto Perché è la prima partita Che perdiamo in casa Perché davanti al nostro pubblico Non avevamo mai Perso Nel prossimo episodio Arriveranno le sfide Contro Bari, Ascol e Cesena Bari e Ascol La nostra portata Cesena Che è la capolista Se non sbaglio Un po' più difficile Però no Il Cesena si trova No A tre punti da noi Quindi Dovremmo Far di tutto Per provare a vincere Tutte e tre Sarà difficile Ma Dobbiamo riuscirci Voglio assolutissimamente Portarmi il più sul possibile In classifica Perché Voglio assolutamente Portare Questa squadra In Serie A Perché se lo merita Perché ha fatto Un anno Straordinario Partita male Ma dopo Da quando siamo arrivati noi Davvero Abbiamo preso il volo E adesso voglio Portarla Più in alto possibile Ho bisogno anche Del vostro supporto Come sempre Fatemi sapere Fatemi sapere Soprattutto Cosa ne pensate Dei giovani Che abbiamo portato In prima squadra È vero che Non ve li ho fatti vedere Ma adesso Ve li faccio vedere Velocemente Prima di chiudere Quell'episodio Allora Marinelli Ve l'avevo già fatto vedere Nel scorso episodio Comunque è lui Damiano Marinelli Poi abbiamo portato Dalla primavera Andrea Di Pinto Che è questo Giovanissimo Classe 97 Alessandro Pavan Che è un 2000 16enne Ha le potenziali Per diventare Un giocatore di qualità Secondo il nostro preparatore Quindi puntiamoci E proviamolo E poi infine Maier Un'ala Sinistra Che per adesso Sostituisce L'infortunato Murza E quindi È un 99 Che fa la terza scelta Perché il primo è Caprari Poi c'è Gesien E poi arriva Maier Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Fatemi sapere anche Se secondo voi È giusto puntare Sui giovanissimi Della primavera E rischiare Perché sapete che Il calcio è un rischio E chi rischia Secondo me È quello che Ha più possibilità Di far bene Perché sinceramente È anche più divertente Fatemi sapere quindi Cosa ne pensate raga Siamo sesti in classifica A tre punti Dal Cesena Dalla Ternale E dal Cagliari A quattro punti Dal Livorno Secondo Quindi Secondo me Siamo in linea Con i nostri obiettivi Assolutamente In linea Se avete Di consigliarmi Come al solito Scriveteli qui sotto Tramite un commento Fatemi la nostra analisi Non insultatemi Per l'ultima partita Ma sono errori Che si fanno Io mi scuso Con voi Perché Sono consapevole Di aver rischiato Troppo E di aver sbagliato E di aver sbagliato Anche la formazione E anche La gestione squadra Durante la partita Se avete Nei consigli Per le prossime partite Naturalmente Scriveteli qui Ditemi un po' Cosa ne pensate In generale Dell'episodio Mi raccomando Raggiungeremo Almeno 1500 like Per continuare Questa meravigliosa Carriera Trovate tutti i miei social Qui sotto in descrizione Trovate anche il sito Di Instant Gaming Che se volete comprare Il gioco Apprezzato scontatissimo Ma anche altri giochi Adesso è tutto Vi mando un abbraccione enorme E noi ci vediamo Al prossimo video Che magari potrebbe arrivare Già domani Chi lo sa